Musica Contrasto all'abbandono dei rifiuti, in arrivo una telecamera mobile per Leivi e Chiavari, in via dei Selaschi, nuova isola ecologica per il conferimento degli ingombranti. Disagi per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, ha incrociato le braccia il 50% dei lavoratori di ATP, percentuale dell'80% per AMT. Per salvare il settore caseario occorre organizzare una filiera a livello locale, lo sostiene la Col di Retti, ci saranno possibilità di acquisto dei macchinari grazie al piano di sviluppo rurale. Allerta gialla per pioggia, diramata dalla protezione civile anche sul Levante, in vigore dalle 22 di questa sera sino alle 17 di domani. Corsa contro il tempo a Genova per la bonifica del Polcevara, preoccupazione per l'arrivo dell'ondata di maltempo che rischia di aggravare la situazione. Procede a regolare il decorso post-operatorio per Evelina Shemcook. La regione ha accolto la richiesta di Caritas di coprire le restanti spese necessarie all'intervento. Quasi 600 partecipanti alla sesta prova National Master conizzata dalla chiave di scherma. Per il cinquantesimo di fondazione, la società sportiva punta a portare in città gli europei del 2017. Buonasera, buonasera a tutti, gentili telespedatori, benvenuti nei nostri studi. Linea dura dei comuni di Levi e Chiaveri contro chi abbandona rifiuti ingombranti indiscriminatamente. Un fenomeno in aumento che prevede multe salate per chi viene individuato a compierlo. Le sanzioni partono infatti da 300 euro e per un controllo sempre più capillare del territorio verrà attivata a breve una nuova telecamera mobile. Ma nel frattempo l'amministrazione di Levi ha allestito una nuova area ecologica per il conferimento degli ingombranti aperta due volte a settimana nell'area di Selaschi. Sentiamo il servizio che abbiamo realizzato. I comuni di Chiaveri e Levi uniscono le forze nel contrasto all'abbandono dei rifiuti ingombranti. Un fenomeno, quello del deposito indiscriminato di materiali di vario tipo, elettrodomestici, scarti edili, immobilia, che negli ultimi tempi ha registrato un incremento considerevole, specie nelle zone del territorio più periferiche e nascoste. Un comportamento incivile che le due amministrazioni cercano adesso di contrastare in tutti i modi. Le multe per chi viene individuato ad abbandonare rifiuti partono dai 300 euro e in questi primi mesi del 2016 sono già state 35 le persone a Levi identificate e sanzionate anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Un impianto che a breve potrà contare anche su una postazione mobile. Ci adotteremo di una telecamera mobile in modo da non dare riferimenti fissi sulle postazioni attuali che abbiamo. È un fenomeno diffuso quello sul territorio del comune di Levi dell'abbandono di ingombranti. Purtroppo col fatto che i comuni limitrofi hanno incentivato il discorso della raccolta porta a porta ci siamo trovati dei quantitativi superiori alle medie che avevamo negli anni scorsi e abbiamo dovuto adottare questo sistema per cercare di educare i cittadini poco corretti. Intanto nell'attesa di adottare il nuovo sistema di raccolta differenziata il comune di Levi mette a disposizione dei residenti un'area per il conferimento dei rifiuti ingombranti allestita nella zona dei Selaschi e aperta due volte a settimana. Il sabato mattina dalle 8 alle 12 e il martedì dalle 8 alle 12 dove sarà possibile conferire i materiali ingombranti. Bisognerà essere cittadini di Levi, portare con sé un documento, ci saranno alcune regole sui quantitativi non è che uno potrà portare un autocarro di materiale però potrà conferire lì tranquillamente e regolarmente il materiale. Dove sarà allestita? Sarà allestita in fondo a via Selaschi, praticamente nelle zone dove abbiamo la zona industriale dei Capannoni e quant'altro. In questi giorni verranno completati gli allacci per quanto riguarda la luce, l'acqua e gli scarabili in modo che anche lì verrà suddiviso ferro, legno e quant'altro. Restiamo ancora Levi perché è ancora sotto shock la comunità dei residenti di via San Lorenzo Il giorno dopo il vasto incendio che ha distrutto un'abitazione della frazione è provocato la morte indirettamente di un uomo 75enne, Guglielmo Briozzo che è la vittima non ha retto purtroppo la preoccupazione di vedere la propria abitazione interessata dalle fiamme. L'uomo viveva a Chiavari insieme alla moglie, andava spesso però in quella che per lui da una ventina d'anni era diventata la casa di campagna nella quale dedicarsi all'orto. Era lì anche ieri quando da un fuoco acceso da una vicina per bruciare alcune serpaglie le fiamme spinte dal vento hanno trovato terreno fertile in una proprietà vicina nel quale il proprietario ha accumulato nel corso degli anni oggetti e materiali che hanno alimentato l'incendio. Nella concitazione dei momenti il cuore del 75enne non ha retto nonostante i reteati tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118 e dei volontari della Croce Verde purtroppo l'uomo ha cessato di vivere. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Chiavari e Rapallo che hanno lavorato incessantemente per ore per spegnere questo incendio. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri della compagnia di Chiavari che stanno cercando di ricostruire le responsabilità dell'accaduto e l'esatta dinamica dei fatti. Disagi per chi ha dovuto utilizzare oggi i mezzi pubblici. È stata alta infatti l'adesione allo sciopero di 24 ore proclamato dai sindacati dei lavoratori di ATP e di AMT. Secondo i primi dati ha incrociato le braccia circa il 50% dei lavoratori dell'azienda a trasporti provinciali. La percentuale si è attestata all'85% per quanto riguarda l'azienda genovese. Sono state garantite le fasce protette che per ATP sono state dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20. I lavoratori dell'azienda a trasporti provinciali hanno protestato per l'ennesima volta contro la privatizzazione di ATP dopo che l'azienda ha concluso positivamente il percorso del concordato fallimentare anche grazie ai sacrifici dei lavoratori. Il vertice di mercoledì a Carasco ha sancito il passaggio della quota azionaria del 48% di ATP esercizio da SMC ad autoguidovie italiane. Situazione che mette in forte preoccupazione i sindacati per possibili riduzioni al servizio e anche a tagli occupazionali. Per salvare il settore occorre mettere insieme una filiera del latte in loco. La Coldiretti propone questa soluzione per l'immediato futuro. Nuove macchinari si potranno acquistare grazie ai finanziamenti del piano di sviluppo rurale. Sentiamo Valerio Sala, presidente Coldiretti, provincia di Genova. Che cosa vedete per il futuro? Come si può risolvere questa situazione e anche cercare di evitare emergenze come questa? La speranza è che i produttori si associino e cercare uno sbocco per il latte e i relativi prodotti derivati direttamente sul territorio tramite degli accordi di filiera che possano garantire la permanenza del prodotto sul territorio. Quindi questi accordi di filiera come potrebbero funzionare? Cioè che cosa può essere e deve essere garantito sul territorio? Deve essere garantito quello che si è cominciato a fare con il caseificio pugliese, ovvero il caseificio pugliese si impegna a lavorare questo latte per fare del formaggio che verrà utilizzato poi nella focaccia di Reco, che invece adesso il consorzio della focaccia di Reco usa del formaggio che non è prodotto in Liguria e non con latte di Ligure. Bisognerà intravedere altri acquirenti possibili? Si può anche pensare a una certa forma di associazione tra i produttori, dato che c'è il nuovo piano di sviluppo rurale in partenza. Ci possono essere anche dei discreti finanziamenti per le attrezzature locali per poter lavorare sul posto il prodotto. Per trovare nuovi spazi sul mercato come ci si può muovere? Rivolgendosi direttamente ai consumatori oppure andando a cercare grandi aziende? Secondo me, dato che le quantità di latte non sono astronomiche, la strada che può pagare di più è quella di andare a incontrare direttamente il consumatore. Il servizio di protezione civile della regione Liguria ha emanato l'allerta gialla al grado più basso per piogge temporali su tutto il territorio della Liguria da questa sera alle 22 sino a domani, sabato 23 aprile alle ore 17. In particolare sono previste piogge temporali da Portofino a Noli e nelle valli Bormide e Valle Stura da questa sera alle 22 sino a domani alle 14 e dalla mezzanotte di oggi sino alle 17 di domani nella zona di Portofino fino alla Spezia e nelle valli del Genovesato, Val Fontanabuona, Val Trebbia, Val Daveto. Sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti dal sito www.allertaliguria.gov.it Si riunirà nuovamente domani a mezzogiorno al tavolo di emergenza sullo sversamento di greggio a seguito della rottura del tubo della raffineria Iplom di Busalla. L'obiettivo è rifare il punto sulla situazione alla luce del passaggio della perturbazione prevista per questa notte e per il quale è stato diramato lo stato di allerta gialla. Oggi intanto l'azienda incaricata delle bonifiche ha confermato che il cronoprogramma dell'operazione di bonifica sarebbe stato rispettato con il raccoglimento entro questa sera del 90% del materiale fuori uscito. In vista delle piogge comunque si stanno rafforzando barriere terrapieni e anche i battelli prepossi alla pulizia del mare stanno lavorando a pieno ritmo. Dopo le prescrizioni del tavolo di emergenza bisogna dire che l'azienda ha attivato tutte le precauzioni che sono state imposte. Ha confermato così l'assessore all'ambiente della regione Giacomo Giampedrone. In questo momento la preoccupazione è quella di recuperare la maggior quantità possibile di materiale dal polcevere e dai suoi affluenti per evitare che vada in mare nelle ore notturne a seguito delle piogge notturne. Esercitava la professione di farmacista nonostante non avesse i titoli per farlo. La Guardia di Finanza di Genova ha accertato che all'interno di una farmacia del Tiguglio una dipendente sprovvista dei titoli necessari dispensava farmaci e forniva consigli di carattere sanitario ai clienti pur non avendo il titolo di laurea necessario a svolgere questa attività. In più la donna serviva ai clienti indossando il camice bianco ma era priva del distintivo dell'ordine dei farmacisti attestando l'iscrizione all'albo. Obbligo sancito dal codice deontologico della categoria. I militari delle Fiamme Gialle hanno pertanto proceduto a seguito di attività di osservazione e appostamento a denunciare per esercizio abusivo di una professione la dipendente e il titolare della farmacia. Quest'ultimo inoltre per il fatto di aver permesso l'abuso è stato segnalato al competente ordine professionale rischia l'interdizione della professione per un periodo non inferiore a un anno. È stata operata lo scorso 13 aprile e procede a regolare il decorso post-operatorio di Evelina Shemkuk la bimba ucraina malata di leucemia al centro di una catena di solidarietà che ha visto partecipo tutto il tigulio che ha raccolto quasi 40.000 euro. Per lei anche un'altra bella notizia, il fatto che la regione abbia accettato di farsi carico nel coprire la restante parte di spesa necessaria per le cure di questo importante intervento. Sentiamo. Procede regolare il decorso post-operatorio per Evelina Shemkuk. La bimba ucraina di 8 anni è affetta dall'eucemia e al centro di una gara di solidarietà che ha visto protagonista la popolazione del tigulio. Dopo l'intervento per il trapianto di Midollo Osseo portato a termine lo scorso 13 aprile a Genova Evelina, che qui vediamo ospite nella trasmissione di Tele Radio Pace Buon Pomeriggio è soggetta a infezioni alla gola e febbre anche a 39 gradi ma ciò è normale essendo ancora priva di difese immunitarie proprie e quindi coperta da antibiotici e da morfina per lenire i dolori la febbre, fanno sapere i sanitari, è comunque un segno positivo indicatore della buona reazione e combattività dell'organismo Il fratello Ivan, comunque, che le ha donato il Midollo in quanto compatibile con quello della sorella è ancora a disposizione per l'eventuale necessario supporto e per i dovuti controlli alla sua salute Il Gaslini, inoltre, sta dimostrando di essere all'altezza della sua fama di serietà ed efficienza anche per quanto riguarda l'assistenza data a Evelina e alla mamma in ospedale e tramite apposita associazione fuori del nosocomio stesso Intanto arriva un'altra buona notizia per la piccola La Regione Liguria, infatti, a seguito della domanda fatta in gennaio dalla Caritas Diocesana di Genova e della successiva domanda fatta il 15 marzo dal centro di ascolto Caritas della parrocchia di Santo Stefano di Lavagna ha finanziato le spese sanitarie necessarie per l'intervento L'ente coprirebbe così tutto il saldo mancante che sarà richiesto dal Gasline a fine del trattamento sanitario Avendo già raccolto dalla popolazione e da tante associazioni del territorio del Tiguglio la somma di quasi 40.000 euro, la Regione dovrebbe però mettere solo la differenza Siamo felicissimi della notizia, commenta Elvio Chiappe, promotore instancabile dell'iniziativa di solidarietà vista la tanta fatica fatta e sperando che Evelina non abbia bisogno di cure ulteriori e superiori a quanto finanziato e tutto proceda bene E' una grande vittoria anche della nostra popolazione del Tiguglio che ha dimostrato il suo vivo interessamento e la sua grande generosità stimolando così fortemente la risposta positiva della Regione Cronaca, hanno avvicinato un uomo circa un anno fa mentre pranzava alla mensa dei poveri Gli hanno regalato 50 euro e con un raggiro gli hanno spiegato che dovevano fotocopiare la sua carta d'identità La vittima è un invalido civile, 52enne, vive a Chiavari Poi gli hanno intestato un'auto, una Fiat Punto che prima era intestata a uno dei due, un uomo di 50 anni di Genova, libero professionista Il complice invece è un 49enne, anche gli residenti a Genova, disoccupato La vittima di questo raggiro ha iniziato a vederci a recapitare verbali del codice della strada ai quali ovviamente era del tutto estraneo perché l'auto continuava a essere usata dal suo precedente proprietario 52enne ha denunciato questa caduta ai carabinieri che a conclusione di accertamenti hanno denunciato i due complici per concorso in circonfezione di incapace, falsità ideologica e sostituzione di persone Due ragazzi minorenni sono stati denunciati per il furto di due biciclette I carabinieri li hanno individuati al termine di indagini Secondo la ricostruzione effettuata dai militari i due avrebbero rubato la bici a Rapallo in via privata a Lenoli dove erano posteggiate e anche chiuse con il lucchetto Uno dei due ragazzi ha precedenti penali alle spalle Doveva scontare tre anni e sei mesi di reclusione per violenza aggravata e continuato un uomo 59enne che vive a Sessi Levante L'ordine di carcerazione era stato emesso dal Tribunale di Milano L'uomo è stato accompagnato nel carcere di Genova Marassi Una veglia di preghiera per le popolazioni dell'Equador colpite dal terremoto Si terrà lunedì 25 aprile alle ore 16 nella cattedrale di N.S. dell'Orto in Chiavari Sarà preseduta dal nostro vescovo diocesano Monsignor Tanasini Nel Tiguglio abitano molte persone provenienti dal paese sudamericano che hanno perso parenti e amici a causa di questo violento terremoto del 16 di aprile scorso e della nuova scossa che c'è stata proprio questa mattina Per esprimere vicinanza e affetto soprattutto considerando la grande distanza e l'impossibilità di raggiungere questi luoghi Caritas invita tutti a partecipare a questo momento di preghiera Oggi è la giornata mondiale della terra La tutela della terra, la scelta della legalità il dialogo con l'ISMLAM che non fa paura e la solidarietà verso vecchie e nuove povertà sono i temi sui quali si svilupperà il villaggio per la terra l'evento di Hard Day Italia e il Movimento Focolare di Roma che hanno organizzato da oggi al 25 di aprile al galoppatoio di Villa Borghese in Roma Cinque giorni ricchi di iniziative per adulti e bambini Il servizio curato da Radio Vaticana lo vediamo Il 22 aprile al villaggio si aprirà la Mariapoli dal titolo Vivere insieme la città Si tratta di una esperienza che i Focolari propongono dal 1949 iniziata dalla fondatrice Chiara Lubic e imperniata racconta Tamara Pastorelli tra le responsabili della Mariapoli su una regola di vita condivisa da tutti i partecipanti La Mariapoli a Roma nel villaggio per la terra vuole proporre a tutti i cittadini e anche i viaggiatori che passeranno in due giorni per Villa Borghese la regola d'oro che appartiene un po' a tutte le fedi professate e che per i cristiani è appunto un versetto del Vangelo che dice fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te Ecco vogliamo proporre di vivere a tutte le persone che passeranno per il villaggio per la terra questa regola per almeno provare a costruire il bozzetto di una città diversa una città più solidale, più aperta all'altro dove anche le ferite possano essere condivise e nella condivisione anche trovare insieme delle soluzioni Un ricco programma per tutte le età di workshop performance artistiche su tutto il concerto del Genverde, Spina Dorsale saranno i quattro focus di approfondimento con analisi di esperti e testimonianze di comuni cittadini che sveleranno tante facce nascoste di Roma quelle spesso ignorate dai media ma dotate di una forza d'urto contagiosa Se parliamo di dialogo anche con l'Islam noi vogliamo anche far vedere quello che c'è di positivo tutto quel mondo che si impegna proprio per incontrarsi e dialogare per conoscersi per costruire insieme una società per tutti Ha preso il via oggi a Rimini proseguirà sino al 25 aprile la convocazione nazionale dei gruppi e delle comunità del rinnovamento nello spirito dal titolo Io sono la porta se uno entra attraverso di me sarà salvo che è giunta la 39esima edizione alle testimonianze, agli incontri con altri esponenti della Chiesa italiana si alterneranno nei padiglioni della Fiera Romagnola momenti di preghiera comunitaria in particolare dedicati ai giovani, alle famiglie alle persone malate nell'anno del Giubileo della Misericordia un'attenzione speciale verrà riservata alle chiese perseguitate con la presenza di testimoni provenienti dal Medio Oriente anche una delegazione della Diocese di Chiavari partecipa all'iniziativa che sarà possibile seguire a più riprese su Telepace 2 al canale 85 del vostro telecomando domani ci collegheremo in diretta con Rimini a partire dalle 10 e sino alle 13 staremo in diretta per proseguire poi nel pomeriggio a partire dalle 16 e 15 sino alle 19 stanno per entrare nel vivo le manifestazioni per il 71esimo anniversario della liberazione diverse le iniziative organizzate in questi giorni in diverse località del Tigulio in vista del 25 di aprile a Chiavari domani è in programma un convegno sulle figure e i momenti della resistenza nel Tigulio oggi la proclamazione dei vincitori per il concorso delle scuole sentiamo sono iniziate con la proclamazione dei vincitori del concorso Ampi per le scuole avvenuta questo pomeriggio nella sala consigliare di Palazzo Bianco alla presenza della Presidente Merita della Corte Costituzionale Fernanda Contri le celebrazioni per il 71esimo anniversario della liberazione a Chiavari i ragazzi delle scuole chiavaresi sono stati premiati per i loro elaborati aventi come tema la resistenza e la lotta partigiana iniziative che avranno loro culmine nella giornata del 25 aprile con diversi momenti ufficiali dalla Santa Messa in Cattedrale alle 9.30 alle commemorazioni in Piazza Roma e al Cimitero Urbano ma proseguiranno già domani con un importante convegno all'Auditorium San Francesco a partire dalle 15.30 diverse figure istituzionali e non parleranno dei momenti e delle figure della resistenza nel Tigulio con l'obiettivo di fare chiarezza su un tema molto dibattuto e soggetto negli ultimi tempi e a fraintendimenti e interpretazioni non corrette Chiavari si sente credo ronrata di avere un convegno del genere perché finalmente metterebbe metterebbe un po' di chiarezza sui misteri che qualcuno trasmette su certi fatti che non esistono per fortuna un convegno di questo tipo con degli storici così di valore che hanno sono stati convocati che parleranno della resistenza nel Tigulio perché la Cicchero la Coduri hanno lasciato pagine straordinarie in tutte le valli dietro la Liguria del Levante fino a arrivare alle spalle di Genova e fare i vari personaggi che hanno partecipato non possono essere demoralizzati o sminuiti per il loro valore che hanno che noi abbiamo il diritto di difendere La giornata del 25 aprile avrà come epilogo il concerto dell'ensemble del Conservatorio Puccini di La Spezia che alle 17 sempre all'auditorio in San Francesco proporà l'ottetto di Schubert in mattinata la premiazione dei ragazzi delle scuole precedute dal corteo per le vie di Chiavari Questa mattina nel centro polivamente della parrocchia di San Giovanni a Stella in provincia di Savona si svolta la seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare la festa della liberazione alla cerimonia hanno assistito le massime autorità civili militari e religiose ad accogliere consiglieri e assessori c'erano anche gli studenti della prima e terza classe della scuola media inferiore del comune la seduta è stata aperta dal Presidente del Consiglio regionale Francesco Bruzzone il quale ha sottolineato come quella di oggi sia stata la prima volta nella storia della regione Liguria di una seduta solenne celebrata fuori dalla sede istituzionale di Genova l'operazione ufficiale è stata tenuta poi da Agostino Giovagnoli ordinario di storia contemporanea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano vedete le immagini che si riferiscono appunto alla riunione una notizia luttuosa è mancata l'affetto dei suoi cari suor consolata senesi religiosa giannellina 89enne i funerali avranno luogo domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa del Conservatorio in Corso Colombo a Chiavari le familiari alle consorale dell'ordine delle giannelline le condoglianze da parte dello staff di Teleradiopace le truffe agli anziani sono in aumento sono tanti i truffatori porta a porta che stanno letteralmente saccheggiando le case delle persone anziane tanti quanti personaggi che di volta in volta recitano per raggirare i malcapitati di turno il Rotary Club Chiaveri Tiguglio con la società economica di Chiaveri ha pensato di combattere lo spinoso problema in un modo originale attraverso le dinamiche di una commedia brillante dal titolo Miss Sventa Truffa divertimento e contenuti che andranno in scena domani alle 17.30 nella sala Ghio Schiffini della società economica di Chiaveri e poi il 21 maggio al Cinema Lux di Sestri Levante domani il 23 aprile la giornata internazionale dedicata a Guglielmo Marconi che unisce i luoghi dove l'inventore della radio ha effettuato i suoi esperimenti Rapallo è una di queste città qui Marconi effettuò numerosi esperimenti nell'estate del 1935 come ricorda una lapide posta all'inizio del sentiero che porta al Monte Rosa alle spalle del santuario di Montallegro poi per Rapallo domani per tutta la giornata si potrà assistere ai collegamenti tra le varie stazioni nella sede dell'associazione Radio Amatori in via Maggio 16 all'interno del Parco Casale e ora vediamo la scheda degli appuntamenti per il fine settimana Emanuela Castello Sabato 23 aprile a Zoagli ci sono i mercatini di primavera con artisti artigiani agricoltori che propongono prodotti originali appuntamento in piazza 27 dicembre dalle 9 alle 18 mostra mercato di artigianato artistico al porticato Brignardello di Lavagna dalle 9.30 alle 19.30 artisti e artigiani esporranno le loro creazioni realizzate rigorosamente a mano a cura dei commercianti lavagnesi lezioni teoriche ed esercitazione al campo allestito dalla Croce Rossa al Parco Tiguglio a Lavagna 30 mezzi e 120 volontari mostreranno le più frequenti attività nel settore dell'emergenza sia in mattinata che nel pomeriggio il mercatino dei sapori e delle tradizioni torna a Chiavari in via Rivarola dalle 10 alle 20 con le sue bancarelle che propongono i prodotti tipici regionali italiani nuovo appuntamento con il Bird Watching il corso di osservazione degli uccelli organizzato alla sala punto incontro Coop di Chiavari dalla Lipu dalle 10 alle 12 si parlerà dei rapaci a San Fruttuoso nella bazia di San Nicolò di Capodimonte alle 15 nella ricorrenza del 150esimo anniversario dell'amicizia italo-giapponese si terrà un concerto di musica tradizionale eseguito dai due noti artisti del sollevante il soprano Kobayashi Yukari accompagnata la chitarra da Kazumi Nagaoka nell'ambito dei corsi dell'Accademia Culturale di Rapallo alle 16 a Villa Quirolo è in programma una tavola rotonda sul tema Il mito della democrazia con gli interventi del giornalista Giancarlo Ronga e del docente di Scienze Politiche Luca Perego il vignettista disegnatore ed illustratore Nino Di Fazio sarà al salotto dell'antica Casa Sul Mare all'hotel Rosa Bianca di Rapallo per un incontro organizzato dal circolo culturale Fons Gemina appuntamento alle 17 alle 21 al teatro di Molleone di Cicagna torna la musica d'autore con il concerto del cantautore Fontanino Gioacchino Costa che presenta il suo primo disco solista Sotto Pelle Sotto Terra accompagnato alla chitarra da Armando Corsi nell'ambito degli eventi per la celebrazione della festa nazionale della liberazione alle 21 all'ex convento dell'Annunziata di Sestri Levante spettacolo a cura di Paolo Davini e Ivan Razo dal titolo Innamorate della libertà coppia aperta quasi spalancata è uno dei testi più famosi di Dario Fo e Fran Carame Simonetta Guarino e Mauro Bozzini lo portano in scena alle 21 al teatro delle Clarisse di Rapallo nell'ambito della rassegna Rapalco Scenico Domenica 24 aprile l'osservatorio meteorologico Raffaelli di Bargone organizza una escursione lungo l'anello del monte San Giacomo a Cogorno ritrovo alle 8.30 nel posteggio della Basilica dei Fieschi pranzo al sacco durante la passeggiata alcuni esperti illustreranno le particolarità geologiche della zona iscrizioni al 349 5127 595 ultimo appuntamento per la stagione lirica 2015 e 2016 del Teatro Cantiero di Chiavari alle 21 l'associazione ritorna all'opera porterà in scena la Traviata canterà il coro Quadrivium con l'accompagnamento dell'orchestra Movimento Allegro con Fuoco Notte Barocche Ne Caruggi di Sestri è il titolo del concerto in programma questa sera nella sala Carlo Bo di Palazzo Faccia Sesti Levante un appuntamento promosso dall'associazione in compagnia di Mozart si esibirà il trio composto da Romina Vigna al clavicembalo Roberto Mazzola al violino Paolo Sperandio al pianoforte inizio alle ore 21 è terminata la raccolta fondi a cura dell'associazione Valcichero che ha acquistato un defibrillatore a servizio della vallata il prossimo passo sarà collocarlo in una zona adatta pertanto è stata convocata un'assemblea pubblica che si terrà venerdì 29 aprile alle 21 nel locale parrocchiale della chiesa di Santo Stefano tra le opzioni individuate il bivio di Baranzuolo il bivio di Maggiolo e Villa Grande tutti possono partecipare passiamo allo sport successo di partecipanti a Chiaveri per la sesta prova nazionale master di scherma organizzata appunto dalla Chiaveri Scherma i due giorni di gara hanno visto la partecipazione di 574 atleti provenienti da tutta Italia anche quest'anno si è dedicata grande attenzione all'istituto per il bagliatico attivando una raccolta fondi giocattoli e alimenti per il futuro nel mirino ci sono gli europei master 2017 che si svolgeranno dal 24 al 28 maggio dove è prevista la partecipazione di 1200 atleti per una stima di 5000 presenze alberghiere se assegnate a Chiaveri coinciderebbero col cinquantesimo di fondazione della società di scherma chiaverese è una bella manifestazione dove si può vedere che anche persone non più giovanissime grazie allo sport riescono a mantenersi vivi e veramente atleticamente perfetti al di là dei risultati ma questo penso che sia marginale perché anche persone che hanno superato gli anta che continuano a tirare sapendo di uscire al secondo o terzo turno è una dimostrazione anche a livello psicologico di sportività lo sa che a Chiaveri sono molto bravi per la scherma sono bravissimi è un call molto organizzato preciso che è in grado di gestire sia eventi nazionali come in questo caso la sesta prova nazionale del circuito master sia eventi internazionali come i campionati del Mediterraneo che si sono svolti circa due o tre anni fa è un call che può dare ancora sempre di più è un call su cui tutta sia la federazione sia l'associazione master punta per l'organizzazione e su cui si fa totalmente affidamento perché riescono a prevedere anche eventuali problematiche e risolvere già in partenza ed è questo l'importante in una manifestazione schermistica dove partecipano più di 500 persone provenienti da tutta Italia a livello nazionale aspettiamo le Olimpiadi a Rio de Janeiro sì sicuramente l'evento più importante per la federazione e per lo sport italiano ma diciamo che al momento l'appuntamento più vicino sono sicuramente i campionati italiani antequattordici che si svolgeranno a Riccione per i master in particolare l'appuntamento principale è dal 5 all'8 maggio ci saranno gli europei a squadre l'Italia parteciperà con sette rappresentative sia nel maschile che nel femminile e si spera che proprio in quell'edizione Chiavari venga ad essere nominata come prossima sede dei campionati europei individuali e quindi stiamo presentando gli ultimi dettagli del progetto per la candidatura di Chiavari passiamo alla pallanuoto nella quart'ultima giornata del campionato di Serie A1 maschile di pallanuoto la Prorecco scende vasca domani alle 16 contro Roma per la stessa giornata di ritorno del campionato di A1 femminile il rapallo pallanuoto ospite in casa all'acqua chiara inizio alle ore 15 in A2 maschile sempre a domani ci sono in programma alle 18 Lavagna Camogli alle 18.30 Torino Chiavari compie 19 anni il trofeo calcistico Micaela Basso organizzato a Calvari dalla società Moconesi Fontanabuona per ricordare il giovane arbitro scomparsa tragicamente nel luglio del 1997 il torneo si svolge al campo di Farade di Moconesi riservato alla categoria giovanissimi partecipano quattro squadre Aigriville Baiardo Caperanese Entella e Casarza Ligore si inizia domenica alle 15 la finale si gioca alle 17 di lunedì 25 aprile questa era l'ultima notizia del nostro giornale il prossimo appuntamento come sempre è rinnovato domani alle ore 12 e 45 con il TG3 ci vi ricordo questa sera dopo il giornale l'appuntamento con Noi Chiesa Chiavari e Noi Chiesa Genova vi ringrazio per essere stati con noi vi auguro una buona serata un buon fine settimana con i programmi della nostra rete arrivederci